anche le g nel 2011 e smart tv applicazioni connettività e web vediamo la sezione applicazione dove possiamo scaricare e cercare applicazioni presenti nello store al momento attuale non sono moltissime vediamo che abbiamo già installato per esempio noi l'applicazione della casa bianca ma a breve ne saranno tutte le altre questa è la parte app store possiamo scegliere le varie applicazioni tra giochi intrattenimento istruzioni notizie vita quotidiana selezioniamo l'applicazione che vogliamo e il programma ci chiede di installarla sulla memoria abbiamo circa 350 mega disponibile per applicazioni il sistema operativo utilizzato è plex come framework le applicazioni sono abbastanza veloce e una volta registrato un account utente tutto avviene in modo fluido e immediato la nostra applicazione sta per essere installata possiamo tornare al nostro menu principale globale per vedere come funzionano cili astrex youtube facebook google maps e tante altre applicazioni in arrivo vediamo che ci viene avvisa siamo veniamo avvisati dal tv che queste applicazioni saranno attivate a breve saranno attivate entro fine marzo la ricerca e la parte di browser internet proviamo a far partire adesso cili invece la la web tv interattiva il sistema carica velocemente l'applicazione eccoci qua applicazione caricata diversi canali disponibili adesso causa dell'esposizione così magari non si vede benissimo però diversi canali disponibili qualche serie tv qualche evento si preme play un piccolo buffer e parte tutto queste sono clip della settimana della moda eccoci qua la qualità non è altissima mentre qualità web abbastanza bassa però diciamo che si lascia si lascia guardare passiamo ad astrex astrex è presente anche su panasonic samsung è un servizio di noleggio film caratterizzato da un prezzo abbastanza elevato è una possibilità ovviamente ce ne sono molte altre molto più convenienti comunque il database è abbastanza ampio le novità ci sono peccato che acquistare novità costa davvero tanto vediamo per esempio mangiaprega e ama quello con julio roberts recentissimo costa ben 14,99 quindi costa forse di meno aspettare una settimana e andarlo a comprare in un negozio quando uscirà a individuare un video o addirittura in blu ray anche perché al momento non sono in alta definizione questi film ci sono le schede ovviamente il catalogo è abbastanza soddisfacente torniamo e vediamo un'altra caratteristica che sono le mappe google maps ovviamente il tv non è dentro un modulo gps però ci permette di navigare all'interno delle mappe di google per per esempio trovare un posto, vedere indicazioni stradali, vedere il percorso che vuoi fare per andare da una parte all'altra al tragitto e possiamo visualizzare anche la mappa tramite satellite quindi adesso per esempio proviamo a immettere bari l'immissione del test è un po' scomodo con il telecomando che viene in dotazione che non è ovviamente con tastiera qwerty quindi bisogna come su cellulare ripetere più volte la stessa lettera per farla comparire per esempio una città corta via ok pochi secondi e ci ritroviamo davanti alla cartina di bari